Nasce il Cilento Festival Letteratura. La giunta comunale di Capaccio Pestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato ieri il progetto di quello che sarà un festival di letteratura per ragazzi, la cui prima edizione è prevista per la primavera del 2022. Un'iniziativa che nasce dall'azione in rete di quattro comuni già titolari della qualifica Città che legge 2020-2021, Capaccio Pestum, Comune e Capofila, Agropoli, San Giovanni Appiro e Castelnuovo Cilento. Il festival si avverrà tra le altre della collaborazione del premio Strega Ragazzi e Ragazze del Giffoni Film Festival del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il Cilento Festival Letteratura, organizzato su tre giorni di appuntamenti, sarà dislocato nelle sedi storiche, paesaggistiche e culturali dei comuni coinvolti, come palazzi storici, piazze, biblioteche, parchi, auditorium, lungomare. Il progetto prevede l'allestimento di stand espositivi, la realizzazione di laboratori di lettura e scrittura creativa, strutturati in modo da garantire il pieno coinvolgimento degli utenti con disabilità come BES e DSA e utenti stranieri. Sono previsti anche incontri con autori ed editori, nonché un evento con la presenza di vincitori del premio Strega Giovani e del premio Strega Ragazzi e Ragazze. Grazie alle associazioni del territorio e agli istituti scolastici aderenti al progetto. Verrà inoltre coinvolta un'ampia parte della comunità di riferimento e verrà realizzata una sezione legata alla letteratura per ragazzi locale, nonché una serie di eventi aggiuntivi come visite guidate, laboratori ludici, spettacoli per ragazzi, concerti. Più di 50 i partner coinvolti. Si tratta di realtà che si occupano da anni di valorizzazione culturale in ogni sua forma. Oltre ai comuni promotori, fanno parte della rete il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la fondazione Bellonci con il premio Strega Giovani e il premio Strega Ragazzi e Ragazze, la direzione del Giffoni Film Festival, la scuola di Fundraising di Roma, Live Campania, Associazione Italiana Biblioteche. A questi si aggiungono istituti scolastici, associazioni culturali e librerie del territorio, nonché gli editori mazzanti libri, paesaggi di parole, do.it, human, d'amico editore, Licosia. L'obiettivo del Cilento Festival letteratura, che deve diventare un appuntamento fisso del territorio, è quello di contribuire concretamente alla valorizzazione della cultura. A iniziare da quella legata alla lettura, spiega il sindaco Alfieri, abbiamo pensato ai ragazzi per dare loro un messaggio chiaro. Leggere è importante perché sapere è il vero potere. Il programma che l'amministrazione comunale di Capaccio Pestum sta portando avanti sulla cultura, dal progetto Biblioteche Digitali al rilancio della Biblioteca Erika, è molto ampio, dichiara Maria Antonietta Di Filippo, vice sindaco e assessore alla cultura. Vogliamo creare sempre maggiori occasioni di fruizione culturale, perché sono fondamentali per la crescita personale di ognuno, a iniziare dai giovani. In questo contesto si inserisce il Festival della letteratura per ragazzi, che ci prepariamo a lanciare l'anno prossimo, sarà anche un modo per ripartire nel segno della cultura.